Aradanus è partito il conto alla rovescia per la ventesima edizione del trofeo internazionale podistico? Sì, più che il conto alla rovescia è partito realmente il 16 agosto dell'anno scorso il conto alla rovescia per la ventesima edizione. Come sempre, nonostante la grave crisi economica che ci sta penalizzando nel settore finanziario della manifestazione, ma nonostante questo stiamo allestendo una start list che è degna dell'atletica internazionale, non ci stiamo sottraendo a niente. Quali sono le sorprese di quest'anno? Più che sorprese, intanto le conferme, vale a dire abbiamo già contrattato il campione italiano dei 3.000 siepi, l'Azzurro Gerratana, che gareggia per l'aeronautica militare, abbiamo già la squadra che è stata finalista ai campionati italiani di cross dell'atletica Santa Anastasia. Sorprese delle sorprese avremo anche l'ultimo azzurro che ha vinto a Ravanusa, vale a dire Francesco Ingargiola, che quest'anno abbiamo deciso di far partecipare in occasione proprio della ventesima edizione. Per quanto riguarda i nomi top, ancora abbiamo dei contatti con vari manager in quanto stiamo aspettando fino all'ultimo momento, visto che ci sono le Olimpiadi e chissà, mai direi mai, noi ci caratterizza e ci contraddistingue sempre portare un nome d'eccezione all'ultimo momento.